Ogni partita non è facile, quindi sicuramente vediamo una brutta prestazione, lo sappiamo, abbiamo lavorato sul video, abbiamo lavorato in campo, sarà una partita importante per ritrovare lo spirito e la fiducia che avevamo nelle prime due partite. Non è compito mio dare giudizio sull'arbitraggio, l'importante è vedere il video, vedere quello che abbiamo fatto noi, come risolvere i problemi che abbiamo avuto e poi l'arbitraggio c'è chi di dovere si troverà quello che deve fare, insomma io non metto parole su queste cose perché non è il mio compito. Non possiamo essere soddisfatti perché abbiamo avuto tre sconfitte, quindi sicuramente soddisfatti no, però vediamo dalle video, vediamo dagli studi, da quello che facciamo in campo che le qualità ce le abbiamo per fare dei risultati, per cominciare a crescere ancora di più di quello che siamo già cresciuti, quindi sicuramente non siamo contenti ma penso che le soddisfazioni arriveranno se continuiamo a lavorare in questo modo. Questa Francia è forte come è sempre stata, perché comunque veniamo da un campionato francese, sappiamo il valore di ogni giocatore, sono giocatori nuovi, è la prima esperienza, quello sicuramente sarà difficile ma conosciamo che le qualità ce le hanno, come noi due o tre anni fa eravamo giovani e stiamo crescendo, così la Francia sta cercando per arrivare al mondiale 2011, quindi penso che sia una squadra a non sottovalutare, sebbene abbia avuto molti cambi, anche perché giochiamo nel loro stadio e quindi non sarà mai facile.